ed eccoci ritornati insieme dal cartello di apertura avete ben compreso che un nuovo appuntamento con informaci vi ricordo sempre la mail dedicata che avete a disposizione info chiocciola acicomo punto it do subito il benvenuto all'ospite che è in studio qui con me il presidente di acicomo enrico gelpi grazie buonasera presidente con lei in questo ultimo appuntamento del 2022 vogliamo anche dare subito uno sguardo al futuro il nuovo anno è alle porte ormai e ci sono tanti progetti tanti eventi che ancora una volta vi vedranno impegnati ce ne vuole parlare partiamo proprio seguendo il calendario io so che a febbraio già ci sarà qualche cosa che vi vedrà coinvolti di che cosa si tratta diciamo che per l'anno prossimo abbiamo già ipotizzato un programma all'80 per cento quindi già abbastanza definito e che riguarderà tutta una serie di attività nel mondo dello sport ma non solo dello sport quindi a febbraio come diceva lei il trofeo kart che è molto interessante si farà il driver è molto seguito tra l'altro perché il driver è una struttura diciamo proprio dedicata a questo invitiamo i nostri soci anche i campioni sportivi una bella serata di divertimento di competitività insomma come dire amichevole e poi insomma un momento di così di aggregazione dei nostri soci aci certamente presidente tutti i vostri eventi tutte le vostre iniziative hanno un filo conduttore che quello di coinvolgere il più possibile il pubblico e di fare anche tanta informazione vero sì questo è proprio il fil rouge delle nostre manifestazioni facciamo manifestazioni sportive di vari livelli di varia importanza facciamo manifestazioni anche legate all'attualità della mobilità come per esempio l'eco green e facciamo anche attività sull'educazione stradale insieme alle scuole per esempio e anche attività specifiche diciamo proprio nelle nostre sedi e quindi siete molto vicini alla popolazione tutta secondo le loro iniziative ma presidente io vorrei continuare con lei ad analizzare il calendario del 2023 e la data successiva è quella della domenica 7 maggio che cosa accadrà in quella data beh lì per la prima volta a como c'è una gara di regolarità di auto storiche che vale anche per un titolo nazionale della prima volta che viene organizzata a como in abbinamento c'è una manifestazione sempre di regolarità però legata alle vetture con energie alternative infatti eco green che abbiamo già fatto negli anni scorsi e quest'anno l'abbiamo abbinata invece a una gara di regolarità di motori endotermici certo e sono degli eventi che sempre riscuotono grande successo come abbiamo detto anche per i messaggi che vanno a portare in questo caso appunto la mobilità green che è sempre alla ribalta continuando a sfogliare quello che sarà il calendario delle vostre iniziative del 2023 arriviamo al 22 e 23 di settembre con il campionato italiano rally asfalto coppa italia che cosa succederà in quelle giornate questo diciamo che è un fiore rocchiello dell'automobile di como perché appunto è la 42esima edizione e quello che ci fa molto piacere che la seconda edizione del trofeo villa d'est che era all'inizio era l'abbinamento del nostro rally e dall'anno scorso è ripreso e ha avuto un grande successo dato questo rally è sempre stato accompagnato anche da espansioni tv nella sua storia ci fa molto piacere vale per il campionato italiano e quest'anno oltretutto è abbinato a un'altra serie sempre di un titolo italiano che è la coppa italia quindi ha acquisito una maggiore importanza sportiva grazie appunto anche al successo che è stato l'anno scorso l'autunno vedrà davvero delle date molto fitte un grande coinvolgimento perché a ottobre arriva poi il trofeo nazionale con una gara di regolarità in salita auto ecologiche che ancora una volta richiama al green ce ne parla sì è un'altra tipologia di gara di vettura di energie alternative una gara appunto in salita ma è sempre regolarità che viene fatta nel comune di schiniano nel territorio di comune di schiniano e anche questa è una validità nazionale quindi sicuramente attrarrà non solo quelli che fanno il campionato italiano ma anche gli appassionati di questo tipo di vetture come lei ha detto bene e l'abbiamo sottolineato durante questa nostra chiacchierata la vostra attività e la vostra funzione comunque è multidisciplinare cercate di avvicinarvi anche a quello che è il concetto dell'informazione anche l'informazione dei più giovani questo sicuramente è un aspetto che vi sta a cuore a novembre arriva proprio un evento dedicato la formazione per le scuole perché avete pensato di muovervi anche in questa direzione in realtà in questa direzione ci siamo mossi da tanti anni perché riteniamo che l'educazione stradale sia la cosa principale per evitare quella tragedia dei sinistri stradali soprattutto dei giovani come anche negli ultimi giorni la cronaca è spaventosa su questo quindi bisogna davvero sensibilizzare i ragazzi soprattutto il mondo della scuola l'ultimi anni quando proprio lo studente poi dopo prenderà la patente per rappresentare quelle che sono i vantaggi ma anche i rischi di una guida che non sia all'altezza delle regole e delle condizioni psicofisiche. Questo secondo noi è una missione molto importante la facciamo col mondo delle scuole però siamo partner anche di iniziative del mondo delle forze dell'ordine, delle istituzioni, delle prefetture perché questo è un tema molto importante perché la sinistrosità stradale, l'incidentalità stradale purtroppo colpisce per lo più i giovani quindi è veramente un problema, una tragedia sociale e nazionale. Che tipo di riscontro rilevate da parte appunto dei giovani che partecipano a questi momenti di formazione? C'è consapevolezza di questa necessità e delle problematiche che spesso sulle strade colpiscono così drammaticamente? Sì, secondo me sì, c'è una grande attenzione e soprattutto c'è una grande sensibilità. Questo devo ringraziare anche i professori perché lei sa che nel mondo della scuola ci sono adesso delle iniziative che danno i cosiddetti crediti formativi e quindi non sono programmi generalizzati ma le singole scuole possono scegliere di occuparsi anche di sicurezza stradale. In provincia di Como questa sensibilità è molto forte quindi volevo proprio ringraziare il mondo della scuola, in particolare gli insegnanti e gli studenti che partecipano a questi corsi. Presidente, un altro progetto che avete iniziato e che immagino vorrete portare avanti se non che a conclusione nel migliore dei modi è quello delle colonnine elettriche che sicuramente sono un passaggio fondamentale per promuovere la mobilità green e anche per dare concretezza insomma ad un progetto che permetta effettivamente di viaggiare con una sicurezza che confermi il fatto di avere insomma questo tipo di scelta e portarla avanti. Come vi muoverete in questa direzione? Questo è collegato al discorso sportivo dell'Eco Green. Noi abbiamo fatto un progetto che ormai è pronto per partire e l'anno prossimo installeremo fisicamente delle colonnine nei comuni dove abbiamo la delegazione, quindi Como dove c'è la sede, ma anche tanti comuni dove abbiamo le delegazioni sono 18 in tutta la provincia e una cosa che mi preme precisare è che molte sono proprio sul collegamento da Como a Colico e quindi anche in vista delle Olimpiadi del 26 quando ci sarà un grande afflusso di appassionati, insomma di turisti, ecco chi avrà l'auto elettrica avrà delle opzioni in più per poter ricaricare la vettura perché questo è il problema fondamentale dell'auto elettrica oggi perché le autonomie sono ancora limitate e le stazioni di ricarica sono ancora in misura insufficiente rispetto ai fabbisogni. Quindi è un aspetto fondamentale. Questo è un contributo che noi diamo alla provincia di Como, ovviamente ci saranno dei vantaggi tariffari per i soci ma anche per i residenti nei comuni dove c'è la colonnina. Certo Presidente, imbattuta quasi conclusiva in questi ultimi due minuti che abbiamo a disposizione. Voglio tornare con lei su uno degli eventi comunque più seguiti e più amati che ovviamente è il rally che non solo sposa tutto l'aspetto sportivo che conosciamo molto bene ma dà un impulso fondamentale anche al territorio e a tutto ciò comunque che gravita intorno a questo evento perché significa portare tantissimo pubblico, tantissimi addetti ai lavori e quindi coinvolgere un circuito molto importante. Anche di questo insomma voi vi siete occupati e avete ben messo a fuoco anche questo aspetto, è vero? Sì, è vero e soprattutto è in un periodo in cui non c'è il turismo diffuso come d'estate quindi si parla tanto anche di destagionalizzazione e noi sono anni che facciamo questo. Faccia conto che solo gli addetti ai lavori saranno un paio di migliaia di persone e poi ci sono tutti gli appassionati che vengono a vederlo quindi insomma conoscere il territorio attraverso un evento sportivo è sicuramente un valore in più rispetto alla promozione ordinaria. Presidente, una domanda conclusiva sui lei. Che cosa significa essere un appassionato di autovetture? Lei lo è magari di autovetture storiche visto che questo è un po' il suo mondo? Lei ha una passione in questa direzione? Beh guardi io da bambino giocavo con le macchinine ovviamente poi ho anche corso, ho fatto tutto, ho fatto l'ufficiale di gara, il commissario di percorso, l'organizzatore adesso ma ho corso in macchina, in auto, nei rally, questo di Villa d'Este l'ho vinto un paio di volte e quindi insomma tra tutte le gare automobilistiche quelle che preferisco sono proprio i rally, meno delle gare tipo la Formula 1, la seguo perché devo seguirla ma la passione vera è proprio sui rally. È cambiato il modo di appassionarsi ad una disciplina come questa nel tempo perché magari intervengono altri aspetti collaterali o un amore per i motori insomma è per sempre? No, diciamo la passione non è cambiata credo, è cambiato molto il mondo dei rally perché prima le vetture avevano, cioè la performance delle vetture era tipo meccanico, oggi è quasi tutto elettronico quindi è completamente cambiato l'approccio, la guida anche insomma e quindi ognuno insomma ha il ricordo del suo tempo, secondo me le auto storiche, le auto dei rally storici sono più vicine diciamo a me come generazione però quelle di oggi in effetti hanno delle prestazioni di sicurezza, di performance che sono sicuramente migliori rispetto all'ora però secondo me forse qualcosa in meno sul fascino della guida perché l'elettronica oggi è molto molto importante. Ringrazio per essere intervenuto e anche per essersi un po' raccontato in chiusura il presidente di Asicoma Enrico Gelpi, grazie e buon anno perché ormai ci siamo e spero siano a rivederci. Buon anno anche a lei e a tutti gli spettatori. Grazie anche a voi per essere stati con me, vi ricordo la mail angolichiocciola espansionetv.it, continuate a scrivere e naturalmente tra poco c'è la nostra informazione. Grazie a tutti.